Penultimo turno della seconda fase. Dopo il successo ottenuto nella giornata di giovedì contro Luis Roma, la capolista Taranto sarà di scena sul parquet dell'Ostica Sant'Antimo. Campani, reduci dal KO di un solo punto contro Nardò, è in piena lotta per i play-off. Rosso-blu che in caso di vittoria sarebbero ad un passo dalla matematica per il primo posto finale. La classifica infatti recita 36 come la Real Sebastiani Riti, ma con gli scontri diretti a favore della formazione di Davide Olive. Sabini che al contempo riposeranno per le positività riscontrate nella Tecno Switch Ruvo e che nel turno infrasettimanale hanno battuto un'ottima biceglie. Proprio i Lions faranno visita alla metaformia, due punti permetterebbero virtualmente di chiudere il discorso play-off. Già certa degli spareggi di promozione grazie al record di 11 vittorie consecutive è la frata Nardò. I Granata, tra le migliori formazioni per rendimento attuale a livello nazionale, saranno impegnati al palo del Mauro contro la Scandone Avellino. Lo scenario sarà suggestivo e gli uomini di Battistini proveranno ad inanellare il dodicesimo acuto al cospetto di una squadra in piena lotta per la salvezza. In tal senso diventa fondamentale e pressoché decisivo il match tra Virtus Pozzuoli e Molfetta, situazione classifica rispettivamente di 12 e 16 punti. Una vittoria dei Molfettesi chiuderebbe la pratica, mentre un KO riaprirebbe i giochi ad un solo turno dalla fine. La classica partita che vale una stagione, quindi, come quella che vedrà Monopoli su parche di Cassino. È in comiamili la Quintana e compagni nei due punti conquistati in settimana contro Formia. È necessaria un'affermazione in due turni o una doppia sconfitta di Avellino e Catanzaro per garantirsi play-out ed evitare la retrocessione diretta. Iniziamo a fare un'affermazione in una nuova sconfitta di Avellino e Catanzaro per garantirsi play-outube. Iniziamo a fare un'affermazione in una nuova sconfitta. Grazie a tutti.